Tre michevoli e basta con il Padova da Ponan, Nestrino Urbano, Ogeo Luparense. Come sta questo Padova secondo te? Credo che il ritiro, soprattutto quello che abbiamo fatto a Lenz sia stato un portante per staccare mentalmente. Dopo una rincorsa lunga non siamo riusciti ad agganciare il Tirol, ma abbiamo fatto tanti punti e abbiamo bisogno appunto di staccare gli amichevoli. L'abbiamo fatto sempre con le gambe abbastanza pesanti, abbiamo fatto una grande mole di lavoro, però siamo convinti di arrivare per martedì pronti e nelle migliori condizioni possibili. Rispetto all'anno scorso, pensando a questo periodo dell'anno, che differenze ci sono? L'anno scorso c'era più amarezza perché siamo stati in testa tutto il campionato quindi ci siamo fatti riprendere a tre giornate dalla fine, invece quest'anno abbiamo rincorso. Abbiamo trovato una squadra che purtroppo è andata un pochino più forte di noi, soprattutto in alcuni momenti della stagione, quindi abbiamo poco da recriminarci perché il Tirol ha fatto veramente un campionato stato sperico, quindi c'è sicuramente meno amarezza dell'anno scorso. Chiaramente anche l'anno scorso volevamo vincere tutti i costi, poi sapete tutti benissimo com'è andata e quest'anno speriamo veramente di tornare in Serie B. Tu come stai? Tutto bene, sto recuperando la migliore condizione come tutta la squadra e spero di dare il mio contributo in questi play-off. Anche perché sotto il campo c'è bisogno, insomma c'è di gamba che di testa, bisogna capire anche cosa avrà Ronaldo, gli esami cosa diranno, però bisogna arrivare ben concentrati, focalizzati sul primo appuntamento senza prendere sotto gamba. Quello sicuramente no, abbiamo visto che come l'anno scorso quando abbiamo fatto queste partite, avere una panchina lunga aiuta molto, viste le tante partite ravvicinate, si riesce ad arrivare in fondo, è impensabile che giochino sempre gli stessi 11, quindi la profondità della nostra rosa, qualora si dovesse andare avanti, e lo vogliamo, ci sarà di vitale importanza. L'impressione mia, guardando un po' a queste prime gare di play-off, sembra che il livello sia leggermente superiore rispetto magari a quello dell'anno scorso, non so che idea ti sei fatto guardando le partite, guardando gli avversari. Io mi ricordo a parte la prima partita con Renate che sappiamo com'è andata, con la Bellina era una partita dura. Chiaramente i play-off sono un campionato a parte, conta tantissimo come ci arrivi sia mentalmente ma soprattutto fisicamente, perché giocando ogni tre giorni appunto la condizione fisica diventa fondamentale. Io ho visto qualche partita, il livello è sempre stato alto ai play-off perché si incontrano le migliori squadre e poi in questo momento cominciano a rimanere dalla seconda alla quinta, quindi il livello è sempre stato alto, non credo che sia superiore agli altri anni. Ti faccio una domanda al contrario, non ti chiedo chi vorresti evitare ma chi vorresti incontrare al primo torre? Se ne parlavo nello spogliatore, in questo momento qualsiasi squadra si incontri, sono tutte squadre importanti, visto che la maggior parte sono arrivati dal secondo al quinto posto. Chiaramente le teste di serie non possiamo incontrarle, però preferisco incontrare una squadra o l'altra direi una bugia. In questo momento forse con due risultati su tre è meglio incontrare uno squadrone che riusciamo magari a buttarlo fuori subito, però è prematuro, noi pensiamo a noi che abbiamo dimostrato che se siamo lì belli, concentrati i compatti, possiamo veramente portare a casa la Serie B. Ti chiedo l'ultima cosa, torniamo un po' dietro nel tempo, di qualche giorno, insomma dammi un ricordo dall'ansia, cosa porti da quella esperienza, da quei giorni, da quel ritiro? No, siamo stati bene, abbiamo ricompattato ancora di più il gruppo se ce n'era bisogno e niente, a noi fa piacere stare tutti insieme, abbiamo vissuto 24 ore su 24 sempre insieme, è stata una bella esperienza, il centro e la struttura sono veramente importanti, in Italia ce n'è veramente pochi. Anche allo stadio sì? Anche allo stadio sì, sicuramente. Senti tu vorrei anche rifarti, mi ricordo l'anno scorso la finale di ritorno l'hai vista dalla tribuna, quindi questo è un motivo in più, credo che tu abbia sofferto ancora di più a vederla non essere in campo. Questa domanda me l'avete fatta innumerevoli volte, ma sì è così, volevo dare il mio contributo dal campo, non lo so se era un campo se cambiava qualcosa, però magari potevo dare una mano di più ai miei compagni, è un rammarico che mi porterò dentro per un bel po' anche vedendo all'andata che ho preso quella traversa clamorosa, speriamo qualcosa indietro ci deve tornare, un po' di fortuna, speriamo che sia la volta buona. Grazie a tutti.